È fondamentale soprattutto in un mondo in cui tutto si sposta sul digitale, quindi per restare in contatto con la pubblica amministrazione o con il proprio medico, ma anche magari per poter effettuare delle spese online. È importante anche però per restare connessi con le proprie reti sociali, quindi mantenersi attivi e, perché no, anche sfruttare il digitale per un allenamento cognitivo che tenga la mente sempre più viva e longeva. È assolutamente importantissimo perché le persone che hanno una formazione non nativa digitale talvolta hanno delle grandi complessità nell'utilizzo di questa tipologia di strumenti e per questo diventa importante trovare delle occasioni anche formali per aiutarle ad imparare, soprattutto in ambiti di popolazione che possono essere costretti a dover usare la tecnologia senza averla mai in qualche modo digerita. E su questo il progetto è assolutamente un elemento essenziale su cui come fondazione abbiamo deciso di impegnarci. Noi crediamo che soggetti come Fondazione Longevitas siano soggetti importantissimi con cui aprire un livello di collaborazione. Noi siamo una fondazione di impresa che crede nella possibilità di restituire attraverso progetti di sviluppo un pezzo delle nostre competenze e in questo senso soggetti che hanno avviato, come in questo caso, progetti di formazione sul territorio, in città del nostro Paese possono fornire un contributo di grandissimo valore nella logica di fornire formazione a quei soggetti che hanno bisogno appunto per superare il gap digitale che è un elemento ormai essenziale per poter vivere nella quotidianità in modo sereno. Penso alle app e penso a tutte le tecnologie che diventano impattanti in persone che non hanno avuto magari la possibilità di utilizzarle e che quindi rischiano di avere dei problemi seri. Sono degli incontri rivolti alla popolazione over 65 all'interno dei centri di aggregazione per persone più anziane e in questi incontri dei formatori esperti e qualificati aiuteranno le persone che hanno meno dimestichezza col digitale ad avvicinarsi a tutti gli strumenti utili, l'utilizzo di uno smartphone, delle app, gli acquisti online, ma li aiuteranno anche in un'altra cosa importantissima, cioè come difendersi da tutte quelle truffe che sono legate al digitale e che quindi rischiano di far diventare la digitalizzazione un'arma a doppio taglio. Quindi vogliamo rendere i cittadini più consapevoli, più capaci di difendersi.